Bentornati, nuovissima puntata spumeggiante, brillante, bianca, sempre qui dall'Istituto Italiano Design, Nicola e Paolo, basta presentarci, basta sempre spararci le pose stiamo, basta con il poserismo, oggi parliamo di una parola difficilissima, Paolo ha detto no, non dire algoritmo, era gente ignorante, siete ignoranti, lo sappiamo tutti, siete ignoranti ma lo siamo anche noi perché parliamo in continuazione di Facebook ma nessuno mai vi spiega cos'è che sancisce il successo o meno di un contenuto su Facebook e oggi noi ve lo spiegheremo perché vi amiamo, esatto, tra l'altro seguendo un po' di canali Telegram è venuta fuori notizia di ieri o proprio questa mattina che c'è stata la convention, c'era Mark, Mark l'amico mio, grande Marcolino, Mark tra gli ebrei più ricchi del mondo, questo è rilevante però volevo dirlo, che ha tirato fuori il nuovo layout di Facebook che Paolo tu non l'hai visto ma somiglia tantissimo come diceva Giorgio Tave online a Twitter come struttura. Non mi sembra proprio l'idea più vincente della storia, considerando che è una piattaforma morta o semitale da anni Twitter. Però che cosa sta succedendo? Facebook a parer mio invece sta diventando sempre di più una sorta di Instagram con contenuti più ricchi perché alla fine Facebook non è per malati disfunzionali che sanno usare solo il pollice come quelli che usano Instagram ma è qualcuno che magari legge anche i testi sento del grandissimo risentimento. Odio Instagram, comunque. Quindi dicevo, verrà dato tantissimo risalto alle stories, tantissimo, infatti c'è, se andate a vedere il nuovo layout, un'area incredibile in alto da rilevo alle stories di Facebook che probabilmente poi saranno le stesse di Instagram perché spesso adesso è possibile integrare le due cose e poi il layout sarà estremamente semplice, molto minimal come al solito, però rimane integra abbastanza la struttura dando molta più evidenza e semplicità al newsfeed giusto per chiudere il cerchio. Detto questo, parliamo un pochino di questo algoritmo. Mark ha detto che l'algoritmo cambierà nel 2019. Cosa ha detto Mark in merito a questo, maestro Paolo? Il caro Mark ha deciso di privilegiare le interazioni significative. Cosa facciamo a riferimento con questa etichetta del buon Marcolino? Praticamente non a contenuti monodirezionali, ma interazioni che apportano plus valore. Non è così semplice da dire così, ma ora vi spiegheremo quali sono gli elementi che vanno a considerare, a configurare questo plus valore. Credevo di essere finito una lezione di economia con questo plus valore. È vero, ma infatti si va sempre più in termini economici, in senso stretto, perché anche il concetto di differenziazione dei vari canali che Facebook sta imponendo a forza, anche pensa alle stories, a me sembrano un corpo estraneo in Facebook. Sì, è un corpo estraneo, è un tentativo di integrare un po'. Però serve per ampliare il bacino, per ampliare l'offerta, per creare ulteriore engagement. Ed arriveremo a parlare di engagement ora. Tra l'altro io ho cominciato con l'azienda a usare anche le stories su Instagram, delle pagine aziendali e devo dire che non credevo, ma c'è gente che ci guarda. Non è un'enormità, anche perché lì, se non sbaglio, puoi anche sponsorizzare in quell'area, non l'ho mai fatto, non l'ho mai sponsorizzato una storia su Facebook, solo su Instagram, però visto che comunque a livello organico c'è un discreto traino. Comunque, quali sono gli elementi a questo punto che possiamo fare anche un piccolo excursus, dicendo che all'inizio Facebook, all'inizio sembra un po' la genesi del Vecchio Testamento. Biblico, mi piace. All'inizio era, non mi ricordo come inizia, cioè era il mare magnum dei contenuti. Non so se vi ricordate, Facebook non c'era un algoritmo, tutto veniva visualizzato. Era bellissimo dal punto di vista aziendale perché a livello organico raggiungevi tutti quelli che ti seguivano, quindi era una gran cosa. Poi in piano piano la riccia organica, cioè la possibilità di farsi vedere gratuitamente dalle persone è cominciata a calare in una maniera devastante. Adesso sostanzialmente siamo arrivati già da due anni e mezzo, circa tre, a una riccia organica zero, sostanzialmente, però ci sono un po' di elementi e fattori che bisogna tenere presente sempre. Uno per mantenere un po' questa riccia organica di base, due per amplificare, in qualche modo, la capacità tramite responsabilizzazione di raggiungere il maggior numero di persone. Cominciamo a vedere un po' quali sono questi fattori e questi elementi, Paolo. Beh, allora, tanto per cominciare, e questo è un trend che ormai è attivo da diversi anni, parliamo della presenza, o meno, di video nativi. Facebook spinge fortissimo sulla presenza di contenuti multimediali perché, uno, è un contenuto che tu regali allo zio Mark, tu produci video, tagli un video su misura che possa interessare al tuo audience e stai lavorando gratis per Facebook, anzi, tu stai lavorando per Facebook e lo paghi pure. Quindi, per loro è una situazione perfetta, non creano contenuti e fanno un sacco di soldi. fantastico. Quindi, questo viene privilegiato, ma viene privilegiato anche il feedback e il canale, quanto è ricco il canale interattivo che si crea tra te e il tuo audience. E anche il termine di audience, fate attenzione, cade in disuso perché audience si riferisce a una comunicazione monodirezionale. Qui, in realtà, Zuckerberg ha parlato di conversazioni significative, giusto? Esatto, esatto. Ecco, è un termine bidirezionale. Vengono privilegiati, ad esempio, in quest'ottica, i commenti long form, i commenti lunghi, strutturati, non quelli con scritto cool, figata o robe simili, no? Commenti dove si argomenta, dove si aggiunge per l'appunto ancora plus valore e dove generi engagement e vengono penalizzati altri tipi di contenuto che su Facebook hanno trovato grande fortuna. Pensiamo a clickbait, titoli sensazionalistici o contenuti di natura falsa. Esatto. Allora, posso dare un elemento interessante alla discussione perché vi porto il caso proprio dei radiodesign. Su Facebook noi andiamo live video, no? Perché siamo stronzi o perché siamo estremamente intelligenti e seguiamo... E a vederci non si direbbe. Non si direbbe, soprattutto questo pelato che sta sulla sinistra. Sei un bellissimo ragazzo. Lo so, grazie mille. La cosa interessante è questa, che sulla pagina di Radiodesign ci sono esclusivamente video live, quindi andiamo live video con i podcast, ovviamente, poi i podcast li trovate anche sulle piattaforme di podcasting. Però un piccolo dato, una media di 3-4, così mediamente, puntate a settimana di vari contenuti e vi posso dire che la reach è tutta organica perché non ho fatto sostanzialmente quasi mai sponsorizzazioni in questo ambito. Una reach discretamente alta che si aggira sulle 4-5 mila visualizzazioni organiche, ok? Che spesso, al farlo a livello aziendale, ti costa... Non è, non è facile. Ti costa qualche euro. E soprattutto un engagement abbastanza elevato, sulle circa 2-3 mila interazioni, che è molto interessante come... per dimostrare quanto sia importante fare i live video, i live video nativi e soprattutto usare il contenuto video che è la cosa più importante e che crea più interazione in assoluto secondo, diciamo, questa specie di algoritmo, il famoso Edge Rank di Facebook, anche un nome, lo chiameremo Edge. Ciao Edge. Ciao Edge, lo chiamiamo per nome perché ormai siamo in confidenza. Quindi dicevamo, hai già citato alcuni elementi negativi che bisogna evitare, ma è così già da anni. Sì. Purtroppo Peppe Grillo è abbastanza depresso perché basava tutta la sua strategia con Casareggio sul clickbaiting. Ma infatti il suo core business ha deciso di spostarlo, si è preso la sua nicchia di pubblico, se l'è portata dietro sul suo... E li ha fatti votare. E li ha fatti votare. Clicca qui per scoprire quello che non ti dicono. Esatto. Come questi due signore di 60 anni che ci guardano. Ci guardano. Ecco, queste qui hanno, quando hanno scoperto l'accesso a Facebook, hanno creduto alla Bio Wash Ball, presumo. Che meravigliose chimiche, comunque. Che nazione meravigliosa, vero? Ricordo ancora oggi, vivido nella mente, la classifica dei dieci blog più visti al mondo. Tra questi c'era Beppe Grillo. Sì. Era il decimo. Parliamo del 2010-2012, quando Facebook cominciava a esplodere, letteralmente. Epoca d'oro del blog di Grillo. Epoca d'oro. Poi cosa è successo? Clickbaiting è stato bannato, già ormai da, parliamo di 5-6 anni, se non sbaglio. Quali sono altri elementi? Clickbaiting vuol dire magnarsi i click. Quindi, Facebook odia le altre piattaforme. Non usare mai link esterni. Non usare call to action, inviti all'azione tipo, clicca qui, scopri perché il Parlamento ci sta rubando tutti i soldi, citando sempre Beppe Grillo. Adesso non lo puoi più scrivere. Ma lo fanno un bait leggermente diverso, che è molto basato, tra l'altro, su immagini incomplete. Cioè, ora, visto che non possono più usare la parte testuale, io sono abbastanza interessato a questi contenuti tipo paraeditoriale, usano le foto, foto parziali che ti lasciano pensare che, e invece no. Esatto. Un modo per raggirare un po' l'edge rank, cioè, sono questi. Dicendo raggirarla, fai sembrare una cosa brutta. Oh, yeah. Anche inviti azioni come like o condividi, like non il cane che è stato per primo volare nel senso di like. Ma quanto siamo simpatici. Ci amate, vero? O contenuti riciclati, ok? Per esempio, io ho scoperto questa cosa incredibile, molto banale, che se sostanzialmente tu utilizzi la stessa immagine, perché ovviamente contiene metadata, se tu carichi la stessa immagine più volte per dei post, per un tuo profilo aziendale, la tua riccia organica scende, perché Facebook riconosce che stai usando lo stesso media content. Incredibile. Quindi questo penalizza fortemente l'utilizzo di immagini in stock, ad esempio, pensiamo. Esatto. Infatti dice, utilizzare immagini native, cioè prodotte apposta per l'azienda. Purtroppo questo è un problema anche quando ci si trova a lavorare da agenzia, prestando servizi a un'azienda, perché non essendo interni a volte può esserci la problematica quando manca una catena di controllo con la fornitura, insomma, di contenuti multimediali. Questo può essere un grande problema. Esatto, è stato compiuto anche una bellissima analisi che dà dei punteggi proprio a quali sono gli elementi di engagement che però danno un boost, diciamo una spinta ai vostri contenuti. Giusto per dirvenne una, i like che sono così amati dai clienti, adorati, vengono quantificati con un punto sostanzialmente, i commenti, e già qui cominciamo a salire sei punti, poi vai avanti. Abbiamo i long form comment, cioè i commenti strutturati di quali avevamo parlato prima, tredici punti, roba. Le condivisioni che generano engagement, quindi condivisioni di account privati di una persona sui quali poi vengono a crearsi poi altre interazioni tipo commenti, contenuti, anche questi valgono tredici punti, quindi tendenzialmente dobbiamo creare sempre interazione con altre persone. Ecco, poi pensate al concetto della viralità stessa, è come un diagramma d'albero che da ogni punto si dirama in due o più punti, quindi se poi non porta niente è un ramo secco. infatti le condivisioni che non generano engagement valgono un solo punto, quindi il caro amico che condivide tanto per fare quel contenuto senza like, senza commenti, senza niente, non porta praticamente nulla. non serve una mazza. Poi veniamo ai video, che è il contenuto che dicevamo che è quello che spinge di più in assoluto. Video che vanno sopra i tre secondi valgono un quarto di punto, mentre i video che superano il minuto, vi assicuro che è difficile che qualcuno guardi un video oltre ai 60 secondi su Facebook, figuriamoci. Lo devi legare. Ricordiamolo che spesso le persone dedicano 0.1 secondi a valutare un contenuto e... Piazzano i like, reagiscono. E spesso magari non superiamo il secondo, quindi tenere qualcuno fermo a vedere un video di un minuto... Non aprono gli articoli, commentano i dettori. Poi i gattini, oppure altre cose tra l'esce. Dovremmo portare dei gattini. Porteremo un gattino qui live, faremo un sacco di... Un appello a tutti i proprietari di gattini, proprietarie e proprietarie, vi prego portateci i vostri gattini. E poi qui viene il punto dolente. I feedback negativi, perché di questi non se ne parla abbastanza. Quindi parliamo di unfollow, del comando nascondi, che ogni utente, voi compresi, avete la possibilità di nascondere un determinato contenuto che non vi piace e questo la fa pagare all'inserzionista, perché viene conteggiato come, insomma, feedback negativo e vale meno 100. Cioè, vi ricordiamo che un commento long form porta più 13, un unfollow meno 100. Quindi bisogna stare molto attenti a non scontentare nessuno. Molto, molto pericoloso. Esatto. Poi c'è un'altra valutazione. Spesso un cliente viene da te e ti fa dai, partiamo a bomba su Facebook, dobbiamo fare un sacco di like, di condivisione. Dico, sì, ma qual è la storia della tua pagina aziendale? Cioè, se la tua pagina aziendale è stata morta, era morta fino a ieri, oppure tu producevi contenuti di merda, possiamo dire di merda, contenuti tristissimi in ambito, in questo ambito, cosa puoi pretendere adesso da me? Devi darmi almeno sei mesi per creare uno storico. Perché ci sono dei fattori, appunto, di ranking legati strettamente alla pagina. Ad esempio. Esatto. La tua pagina ha mai fatto real-time marketing? Cioè, ha trattato tematiche che sono trending topic? E questo è un elemento che viene preso in considerazione. La tua pagina produce regolarmente contenuti di alta qualità? O usa video live? Rispondete ai messaggi in tempo utile? Il tasso di risposta, le tempistiche, eccetera. I tuoi fan interagiscono regolarmente con i tuoi post? Questa è un'altra cosa che ti chiede. Trasparenza della pagina? Ci sono tutte le informazioni? Ci sono sezioni relative alla storia aziendale? Ricordiamo, Facebook prevede anche delle sezioni, non è un sito, però prevede la costruzione di sezioni come la storia della azienda. Queste vanno sfruttate perché ti portano punti in termini di trasparenza. Quindi vanno compilate. Esatto. Poi ancora, i tuoi fan hanno generato discussioni attorno ai tuoi contenuti, quindi ancora una volta le call to action devono riguardare la capacità di una pagina di generare engagement, interazione. Quindi, cosa ne pensi? Qual è il tuo parere? C'è il classico invito del famoso youtuber che ti dice, non condivisi, condividi e iscriviti, ma cosa ne pensi? Lascia qui un tuo commento. Quindi, questo è un elemento fondamentale. Per esempio, io ho avuto sempre grandi difficoltà a far capire questo ai clienti, cioè. È mai difficile. Spesso la comunicazione viene interpretata come top down, anche se in realtà nel mondo digitale è sempre one to one, quindi dovresti intendere, diciamo, il tuo follower come una persona che è di fronte, con cui devi creare un'interazione reale. Però non è facilissimo, è forse la cosa anche più difficile da fare. No, è molto più difficile, ma tu parli proprio di marketing conversazionale, per l'appunto. Ma se non riesce questo tipo di procedura, questo tipo di processo, tanto vale. Allora facciamolo top down, ma facciamolo top down in maniera buona e ordinata. Quindi partiamo dalle idee chiare riguardo gli obiettivi. Se devo semplicemente vendere, facciamo un top down ordinato. Non puoi pretendere i like dei quali parlavi prima il bombardamento di contenuti, perché sono strategie stupide. Abbiamo detto che la riccia organica, a parte casi eccellenti di strategie ben imbastite, è nulla. Quindi ancora sentirsi dire nel 2019, quanti post mi fai a settimana? A che ora devo postare? Esatto. Conta poco, conta veramente poco. Quindi vedete voi, però, bisogna chiarirsi sempre le idee. Prima di tutto, gli obiettivi aziendali devono essere chiari. Dopo ci si può muovere in qualsiasi tipo di modo. Però se tu non hai le idee chiare su quell'obiettivo che vuoi arrivare a raggiungere nel breve, nel medio, nel lungo periodo, non combinerai mai niente. Esatto. Quindi, diciamo, per chiudere un pochino il cerchio, abbiamo già dato alcuni riferimenti. Quindi, l'uso, cioè creare proprio una strategia che riguarda l'uso dei video. Senz'altro, non si scappa ormai. Per un cliente, siamo stati al Salone del Mobile a Milano, abbiamo creato una cosa come 30-40 interviste con un budget, per darvi un esempio, quindi video caricati in attivi, ok, molto in target, quindi di un pubblico molto specifico, con un budget di circa 400 euro su Facebook, in quella settimana, abbiamo generato 300.000 view con i video. Vi assicuro che fare 300.000 view adesso... È roba. ...con quei soldi non li fai, se non usi i video. È un engagement di circa 25-30.000 persone, quindi interazioni uniche. Quindi è tanta roba e questo ve lo dice molto su una strategia video applicata all'azienda. Utilizzare i video live probabilmente, presumibilmente, potrebbero incrementare ancora di più la parità di investimento in campagne e la reach. Ok, quindi Facebook non è morto, semplicemente bisogna saperlo utilizzare. Esatto, va stuzzicato in maniera adeguata e in questo caso ci dimostra che investendo un quantitativo limitato di soldi, ma rivolgendosi a dei professionisti, quindi non è che il video l'azienda può metterlo anche tramite risorse interne, lo può fare, però se non c'è una persona che abbia le idee chiare, una visione chiara e soprattutto che non sappia come usare il tuo budget, che è sempre più ridotto, sempre più risicato, non riuscirai mai a ottenere gli obiettivi, perché comunque si tende sempre a voler minimizzare il budget e va benissimo, ma il professionista comunque permette di risparmiare, non di spendere di più. E questo è un altro concetto che secondo me va chiarito, lo stipendio di un professionista porta al calo dei costi, non all'aumento. Esatto. Un altro elemento, visto che parliamo sempre solo di video, che non è, cioè viene in linea di massima, viene dato come suggerimento, un altro suggerimento può essere questo, andare a vedere lo storico della pagina e capire quali sono i tipi di contenuti con cui i vostri fan interagiscono di più. Nel mio caso, ad esempio, per alcune pagine, noto che il tasso di engagement che genera una foto non le genera un video. Probabilmente perché alcuni tipi di prodotti che non sono emozionali, che non hanno contenuti, che possono essere veicolati bene tramite video, alla fine non sono efficaci, non è efficace il video stesso, anche se viene dato in linea di massimo come suggerimento, ma può essere, ad esempio, l'uso delle immagini, perché quel pubblico è stato educato a quel tipo di contenuto. Dipende dal segmento. Abbiamo detto del lavoro d'analisi, questo ormai è un nostro ritornello e non ci stancheremo mai, bisogna svolgere attività di analisi pre e post, qualsiasi tipo di attività. Se tu vuoi affrontare un certo tipo di mercato, devi capire quali sono i precedenti, best practices da parte della concorrenza e le tue, quelle dell'azienda per la quale lavori. Quindi devi rendere conto che alcuni prodotti che sono legati, magari non a una comunicazione emozionale, ma a una comunicazione prettamente sensoriale, quindi mi riferisco a suoni, colori, forme, immagini. Se funziona una strategia basata sul colore attraverso le immagini, non hai la necessità di spendere con un videomaker per fare dei video straordinari. Funziona quell'immagine, continua a fare quell'immagine, nessun problema. Esatto, ci sono, giusto per darvi dei esempi, per chiudere alcune pagine che spesso trattano tematiche politiche, dove paradossalmente il tipo di contenuto che spinge di più è quello testuale. Sì. Non c'è foto, non c'è video e tuttavia il tasso di engagement è sempre alto, quindi bisogna sempre valutare ovviamente qual è il contenuto giusto. Lì c'è un altro concetto che è quello dell'authority, che è più complesso costruirsi un'autorevolezza, ma una volta che ci riesci leggeranno il tuo post, sebbene lunghissimo, sebbene privo di immagini o di video sfizioselli, e tu otterrai grandi risultati. Tutto dipende dagli obiettivi che hai, gli strumenti che hai in mano, non c'è una ricetta giusta a prescindere. Esatto. E poi quella cosa che hai detto te, cioè il cliente che ti dice quanti post mi fai a settimana. Giusto per farvi un esempio, in questa analisi che abbiamo fatto non viene assolutamente mai citata la frequenza dei post. Mai. Cosa che invece avviene per un'altra piattaforma che è Instagram. Su Instagram il tasso di la frequenza dei post invece è un elemento da tenere sempre in considerazione. Senz'altro. Ma su Facebook questo discorso è morto, nel senso che Facebook campa se ci metti soldi. Facebook campa se ci metti soldi, ma Facebook è più istituzionale. Quindi su Facebook devi mirare bene il tuo contenuto, non è che ne devi sparare tanti in capo alla settimana. Invece Instagram no, perché stabilisce il rapporto conversazionale del quale parlavi prima, quindi tu magari sei più interessato a seguire l'iter giornaliero di un personaggio durante tutta la sua giornata. Facebook non è conformato per questo tipo di traffico. Twitter lo era. Ora sto facendo quello. Ora sto facendo questo. Ora ascolto questa canzone. Il famoso real time, Facebook non lo sposa, ci sta provando, ma si è proprio strutturato in una maniera diversa. Quindi pensate alle vostre strategie aziendali e sappiate che al cliente non frega di avere cento posto sulle attività aziendali tutti i giorni. Comunicate quando avete qualcosa a comunicare. Avete una scontistica? Avete un nuovo prodotto? Una nuova linea? Un nuovo racconto da imbastire? Sono arrivati nuovi lavori dall'agenzia grafica? Volete comunicare la nuova identità visiva? Fate questo. Non serve a niente dover condividere un articolo che non è significativo, che non otterrà interazioni. Evitatelo. Non serve assolutamente a niente. Eh ma intanto abbiamo aggiornato la pagina. E' inutile. Aggiornala pure. Cosa? Se questo ti fa star meglio, aggiornala pure. Allora, ma perché non dirottare contenuti su vari canali? Hai un Twitter? Benissimo, là lì condividi i tuoi canali. Lì parla di contenuti informativi. Hai delle belle immagini che non sono troppo significative? Stories su Instagram. Così può fare. Puoi usare lo stesso materiale, ma devi sapere come e dove usarlo. Esatto, esatto. L'ultima cosa che ci siamo dimenticati per chiudere era che un altro fattore di ranking è quante persone condividono dei contenuti in privato su Messenger e questo contenuto se genera poi interazioni private sulla piattaforma di Messenger. Altra cosa, visto che parlavamo all'inizio delle novità, l'ultima novità è che Mark introdurrà la app per utilizzare Messenger da desktop. Quindi si cerca sempre di più di spostarsi verso la privacy. La parola chiave di quest'ultimo keynote era proprio la privacy. Quindi è troppo tardi, diciamo, perché si è giocato. Direi che qualcosa sia già andato malino. Varie tematiche, la privacy è andata a puttane. Sì, completamente. E direi che abbiamo detto tutto. È stato veramente un puntatone. Serissimo, non ho fatto neanche un rutto in diretto. È vero, non abbiamo ruttato. Commenti politici ne abbiamo fatti? Ah, sì, l'abbiamo fatti, l'abbiamo fatti, l'abbiamo fatti. Ricordare che chi vota 5 stelle, insomma, ha pochi neuroni, questo è importante. Vogliamo sempre farci un sacco d'amici, vero? Saluto anche i leghisti. Ciao. Sì, certamente, certamente. Comunque siamo pronti ad essere collaborazionisti quando le cose andranno malissimo, e quindi ci vendiamo per un tozzo di panna. Comunque abbiamo però violato la regola che non si parla di politica. È vero, è splendido. E sti cazzi, questo è il nostro podcast, va bene. È stato un sogno, ciao. Baci baci.